Sono molto lieto di portare i saluti della rappresentanza in Italia della Commissione Europea all'Università degli Studi di Roma III. L'Europa ha in questo momento 87 milioni di disabili e circa la metà degli ultra 65 anni hanno una disabilità più o meno lieve. Ecco perché la Commissione Europea ha deciso di lanciare una strategia europea per le persone con disabilità per i prossimi dieci anni. L'Europa ha costruito un pilastro economico, un pilastro politico, ma si è dedicata anche alla costruzione di un pilastro sociale che prenda in considerazione l'inclusione delle persone con disabilità. Ci sono varie aree di intervento sulle quali le istituzioni europee hanno chiesto il supporto da parte degli Stati membri. L'accessibilità è innanzitutto uno dei temi sui quali la Commissione Europea ha chiesto l'intervento degli Stati membri e supporterà attraverso l'atto europeo per l'accessibilità una serie di iniziative. Dunque è importante che le istituzioni seguano l'evoluzione delle normative e supportino l'accesso delle persone disabili fisico nei luoghi di lavoro, nella creazione di opportunità in giro per l'Europa. Un secondo elemento infatti di intervento è legato alla libera circolazione delle persone con disabilità all'interno dell'Unione Europea. Questo è uno dei pilastri fondamentali della cittadinanza europea e su questo le istituzioni europee sono particolarmente impegnate nel mettere insieme gli aspetti più rilevanti dei diritti di libertà. Inoltre l'attività riguardante l'accesso alla formazione e in particolare la formazione professionale sarà valorizzata attraverso una serie di interventi. Non ultimo anche la formazione intesa nel senso più ampio attraverso l'istruzione e l'accesso al mondo universitario. Programmi come Erasmus, Erasmus Plus aiuteranno anche gli studenti universitari a trovare opportunità di studio, di scambio all'interno dell'Unione Europea. Questa dimensione dell'inclusione per la Commissione Europea guarda anche oltre i confini. Per questo che siamo impegnati a promuovere questi diritti nei paesi in via di sviluppo dove abbiamo una serie di attività di cooperazione e allo stesso tempo cerchiamo di supportare i diritti che anche le persone più vulnerabili, come bambini, donne e rifugiati, hanno in quanto talvolta portatori di disabilità. Pensiamo in questi giorni drammatici all'afflusso dei rifugiati che arrivano in Europa. Bene, la Commissione Europea è presa è tesa anche a seguire l'azione e a tutelare i diritti dei disabili in quanto rifugiati nell'Unione Europea. Ora, l'insieme di queste attività vedrà un monitoraggio da parte della Commissione Europea, chiederà agli Stati membri di presentare una serie di azioni e proporrà nel 2024 un momento di riflessione collettiva per definire lo stato delle strategie e gli obiettivi che dovranno essere perseguiti. Per questo voglio evidenziare l'impegno dell'Università degli Studi di Roma III, che si evidenzia anche per l'attività svolta in questo momento, non solo a livello nazionale, nella comunità accademica, ma a livello europeo.